Buongiorno, al microfono Anna Tottandor è seduto di fronte a me in studio Attila Vidakovic, fondatore di D-Labs. Ciao Attila, buongiorno. Ciao, buongiorno. Beh, non è un segreto che stiamo iniziando il nostro primo programma, che sarà bisettimanale e che abbiamo intitolato in modo molto creativo What is Bitcoin? Speriamo di essere più creativi in futuro. In ogni caso, per quanto tempo potete parlare di cos'è il Bitcoin? Fino a domani mattina? Penso che potremmo parlarne fino alla fine della settimana, fino a domani mattina o forse per tutta la settimana. Ed è un'ottima domanda perché se la si pone in ambienti in cui le persone conoscono il sistema e ne conoscono il funzionamento e addirittura lo commerciano, lo usano o lo sviluppano, la risposta alla domanda che probabilmente lo definisce maggiormente non verrà fuori subito. L'intero argomento del Bitcoin è tutto ciò che lo circonda. E qual è il cambiamento? Ditevi la risposta? Non lo dico ancora. Quando me lo dirà? Tra poco. In ogni caso, lo facevo nelle mie lezioni per gli studenti. Iniziavamo la prima lezione con cosa fosse il Bitcoin e poi dicevo loro che potevo dare tutti i tipi di risposta, ma di solito non ottenevo quello che mi aspettavo. Si sente dire che è la prima criptovaluta, la tecnologia che ci ha portato la blockchain e cose del genere. Il fatto è che non arriva subito che è il modo migliore per definire il punto in cui siamo ora. È una rivoluzione culturale. Il Bitcoin è una rivoluzione culturale e ora si può dire che sta avendo un impatto sulle principali industrie, sulle persone e sta plasmando le nostre vite, la nostra vita quotidiana. Modellante, ma da quanti anni? Mi sembra di ricordare che si è entrato nella coscienza pubblica da pochi anni, ma la storia del Bitcoin risale a tempi più remoti. Naturalmente il Bitcoin è stato lanciato il 3 gennaio, ma ci sono stati eventi precedenti a quello in cui siamo arrivati al Bitcoin. Ne parleremo, credo, nelle trasmissioni successive dei movimenti cypherpunk e del criptoarchismo. Riprenderemo da lì. È da lì che è iniziato qualcosa. Tuttavia, dove siamo andati, ha detto che si trattava di un cerchio più ampio. Sì, quindi si può dire che in qualche momento nelle settimane 2010 o giù di lì, le masse sono venute a conoscenza dell'esistenza del Bitcoin. Non ne sapevano molto, ma almeno avevano già sentito il termine. E praticamente in tutti i cicli dei tassi di cambio, quando c'erano dei picchi, c'era sempre una grande esplosione del numero di persone che venivano introdotte al Bitcoin o alle criptovalute. Una situazione simile si è verificata intorno al 2013. Prima di allora, solo coloro che erano profondamente coinvolti nella tecnologia e vedevano il miracolo a cui stavamo andando incontro, quando è diventato davvero ciò che volevano che fosse, la storia lo dimostrerà. Ma sembra che siamo sulla buona strada e penso che siamo in un'esplosione simile in termini di consapevolezza e conoscenza sia nel 2017, ora moltiplicando il numero di persone che vogliono impegnarsi con esso, che vogliono capirlo, che vogliono conoscerlo. E per curiosità, quando ha visto questo miracolo? Per esempio, cosa ha fatto Attila Vidakovic? Beh, all'epoca non pensavo al Bitcoin. Ne ho sentito parlare per la prima volta da mio fratello, che ne aveva sentito parlare da altre persone in un gioco per computer chiamato Warcraft. Ma posso dire che all'epoca, purtroppo, non ero molto interessato. Poi mi sono arrivate sempre più informazioni, ma per dedicarvi la maggior parte del mio tempo è arrivato il momento in cui abbiamo iniziato a lavorarci in gruppo con diversi amici e conoscenti e stavamo già assegnando dei compiti alle persone obbligate per vedere chi stava facendo ricerche su quale parte, per capirla davvero da tutte le diverse prospettive, per esaminare l'impatto sulla società, l'impatto sull'economia e per scavare davvero in profondità nella tecnologia. Qual è il termine corretto? Criptodevizza? Criptovaluta? Denaro digitale? Denaro virtuale? Ci sono così tanti di questi termini ora. Lo chiedo per me stesso. Cosa usiamo? Qual è quello giusto? Probabilmente, dal punto di vista economico, la criptovaluta è corretta, ma ciò a cui il pubblico è abituato e quindi questi problemi terminologici, penso che in tutto il mondo delle criptovalute ora sia tutto basato su ciò che sentiamo, ciò che conosciamo. Quindi cerco sempre di adattarmi a chi sto parlando. Quindi in una società criptodevisa, poi criptodevisa, in un'altra criptovaluta, poi criptovaluta. Tornando più specificamente al bitcoin, quanti pezzi di bitcoin ci sono attualmente nel mondo? Al momento sono quasi 19 milioni o forse un po' di più, quindi siamo intorno ai 19 milioni e il numero totale di bitcoin che possono essere estratti è finito, è di circa 20 milioni, non proprio 20 milioni, ma circa 20 milioni. Quindi i 19 milioni che sono in circolazione ma che possono ancora essere estratti. Sono 6 milioni in più? Dai, 8 milioni. Cosa? 2? 19, 27, 21. 21? 21, scusi. Sì, 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 quindi 19 milioni e puoi estrarne altri 2. 21. Sì, ma molti, moltissimi bitcoin rimangono bloccati nel portafoglio perché hanno perso la chiave privata o perché in qualche modo non è possibile accedervi e rimangono lì per sempre. Purtroppo non ci sono cifre assolutamente certe al riguardo, ci sono delle stime, sembra che siano almeno 600.000 bitcoin, ma alcuni pensano che siano parecchie volte tanto. Questo numero potrebbe aumentare oppure questo è tutto ciò che c'è e questo è tutto ciò che c'è? Il fondatore non può ampliarlo? No, nemmeno il fondatore può espanderlo. Un modo in cui potrebbe essere espanso è se la comunità di utenti che mantengono la rete, i minatori e i point miner decidessero collettivamente di cambiare il protocollo fissando una data che di solito viene fatta stabilendo una data per il blocco in cui avverrà un cambiamento del protocollo ed è così che potrebbe essere cambiato ma è improbabile che si o accada perché ridurrebbe il valore del bitcoin e un bitcoin può essere scomposto in 100 milioni di pezzi quindi potrebbe continuare ad aumentare di valore per molto tempo tanto che un satoshi è l'unità più piccola quindi un satoshi corrisponde a 100 milioni di bitcoin in modo che non sia una denominazione troppo grande per essere usata nella vita di tutti i giorni. E posso anche comprare un satoshi se non ho l'equivalente di un bitcoin in tasca. Esattamente quindi può essere diviso per l'unità più piccola. Parliamo rapidamente delle caratteristiche principali si parla subito di decentramento spieghiamo meglio. Sì quindi qualcosa di decentralizzato non ha un centro che lo governa è una cosa molto eccitante perché nell'economia soprattutto nel denaro avere una moneta che non è controllata da nessuno ma è davvero nelle mani della comunità è una cosa molto nuova. L'umanità sta imparando questo e ovviamente ci saranno molte insidie ci sono rischi previsti e rischi inaspettati che affronteremo in seguito. Il modo in cui la decentralizzazione funziona con il bitcoin è che chiunque può assumere qualsiasi ruolo. Può memorizzare l'intero registro dei bitcoin sul suo computer oppure può contribuire al mantenimento della rete con la sua capacità di calcolo che chiamiamo mining e questo è motivato dal fatto che poi beneficia dei bitcoin che circolano in punta di dita e se viene coinvolto nel mantenimento della rete in questo modo è anche parte degli operatori e tutti hanno gli stessi diritti con accesso a internet e hardware che oggi può essere solo un dispositivo di destinazione per se non ha senso usare il nostro computer di cassa. Parleremo sicuramente di estrazione mineraria in un programma separato se ci atteniamo alla decentralizzazione il fatto che non ci sia una banca centrale dietro non una banca centrale a seconda dei casi. Lei ha appena parlato degli effetti positivi ma ce ne sono molti di negativi. Aggiungiamo anche questo. Naturalmente ha effetti negativi proprio perché non è regolamentato quindi è soggetto a effetti che non possono essere controllati. Una delle cose che vediamo è che il tasso di cambio si muove e perché non è regolamentato perché non può essere regolamentato perché non si può impedirne il funzionamento non si può bloccare una transazione non si possono chiudere i conti si apre un mondo che un tempo chiamavamo il far west oggi nel mondo delle criptovalute è il far west quindi abbiamo una frase che usiamo per dire che dovete aspettarvi di venire qui è il selvaggio west sì e nel selvaggio west può succedere di tutto. Giusto. Si sta cercando di regolamentarlo ma in realtà non si può perché non ci sono strumenti nelle mani delle autorità per fermarlo. Si può indagare su un evento ma non lo si può fermare quindi il massimo che si può fare è indagare su ciò che è già accaduto. Questo dà spazio all'economia grigia e nera e d'altra parte ciò che fa una politica monetaria ad esempio non funziona in questo caso perché non si possono ridurre i tassi di interesse non si possono aumentare i tassi di interesse non si possono ritirare i bitcoin dalla circolazione non si possono emettere più bitcoin del necessario ecco perché non molto tempo fa ho detto che per il momento l'umanità sta imparando le basi di un'economia non di potere. Il bitcoin è la prima criptovaluta? La prima criptovaluta funzionante ma non il primo tentativo ci sono stati molti tentativi precedenti. Parleremo anche di questo ma per ora è tutto. Attila Vidakovic fondatore di DLabs grazie mille sono Anna Andortoth torneremo al monitor matutino e continueremo giovedì ciao Attila. Grazie mille ciao